Partiamo un po' dalla fine e anche vedere anche delle argomentazioni che a me toccano particolarmente nel senso che io, come qualcuno sa, sono un appassionato di calcio, molto, lo seguo moltissimo, appassionatissimamente contrariamente di solito a quelli che sono nel nostro ambiente, che se ne fottono e invece per me è uno sport nazionale popolare che è molto intrigante seguo molto la Liga spagnola e vedo che c'è, grosso come una casa secondo me, il problema dell'allenamento della forza cioè io proprio lo vedo, a parte che seguo degli allenamenti in cui continuo a vedere gente in bilico su delle palle con 5 kg, non scherzo, che solleva 5 kg, ma ho visto Marcelo, ieri l'altro, Marcelo, quello del terzino del Real Madrid che fisicamente è potenzialmente un mostro e lì mi rendo conto che dagli Stati Uniti sono l'opposto in cui si ammazzano di pesi fatti spesso male, come diceva Stefano un'altra volta però hanno gran importanza il carico anche perché hanno degli sport che sono declinati in maniera diversa da noi invece c'è questa fobia terrificante che secondo me proprio a certi livelli comincia a diventare un handicap cioè io vorrei mettere le mani su Ricky Pugge e fargli fare dei pesi e vedere cosa succede su un soggetto del genere perché è proprio un handicap che ha, o su Sergio Buschezzo, non so, però a parte quello niente, e come siamo messi adesso? Guarda, purtroppo si è collegato anche i dechi anche i dechi, despite i dechi partiamo niente, allora, prima di iniziare vi facciamo questa piccola comunicazione abbiamo, se puoi Stefano mettere la sovrimpressione, se la fai? se la fai? tema non è tanto la sovrimpressione allora, abbiamo fatto un prodottino online facile, messo anche con un prezzo molto popolare come piace a me, è veramente la portata di tutti cioè d'acquisto momentaneo, costa come un libro fondamentalmente non è un corso online per portare Carlo Calabrese a fare 357 di stacco da terra è più che altro per chi invece ha 150 e vede quelli che fanno 250 e dice impossibile, invece non è impossibile fondamentalmente qual è la logica di questo corso? è cercare di fare un'analisi dall'esterno e dire perché nel nostro mondo una persona di 85 kg che fa 2,25 è considerato, coraggite mi sbaglio, scarso di stacco, no? è scarso, no? 85 kg 2,25 giusto? è scarso mentre ti esci di un millimetro dal mondo del powerlifting e questo numero diventa quasi un obiettivo nel crossfit ecco, questa cosa qua rivolta a chi fa? bodybuilding, natural bodybuilding crossfit un casino ai preparatori atletici e scusate, ai personal trainer anche ai preparatori atletici e i reglisti potrebbero fare numeri esagerati invece si trovano a tirare di schiena molto meno ecco cos'è che è stata un'analisi a posteriori cos'è che fa sì che sia così più facile per noi anche inconsciamente a volte non sempre qual è il percorso che dovremmo fare per rendere un'alzata che proprio non ci viene magari per leve, per attivazione neuromuscolare per caratteristiche che non ci viene ci viene con dei chili che poi confrontandoci con gli altri sono bassissimi sembrano bassissimi ecco, c'è un passaggio ben preciso prima c'è uno dei prerequisiti di mobilità, di lavoro a specifico e poi ci sono quattro punti uno dopo l'altro che se seguiti in questa maniera danno un percorso propedeutico che aiuta a capire perché chi tendenzialmente ha molto tempo da dedicare allo stacco da terra perché fa il powerlifter quindi queste cose le apprende le entrano dentro quasi nel DNA perché a loro viene così più facile ecco senza diventare dei powerlifter agonisti si può si può avere accesso a questo a questo percorso è un prodottino molto furbo lo trovo facile fatto tu Alessio l'hai visto anche tu quando abbiamo preparato le didascalie e tutto non so ti sei fatto un'idea diversa da quella che sto dicendo è un percorso passo passo molto molto razionale furbino per cui se vi interessa dateci un'occhiata all'acquisto per ora con Paypal è un po' la menata c'è un po' la menata del codice fiscale che purtroppo bisogna buttarlo dentro per motivi di fatturazione e ho visto questa cosa qua un po' sta andando molto bene super contenti perché sta già volando vedo che molti che arrivano alla fatturazione si rompono le palle però stringete i denti un attimo insomma almeno fino al 31-12 sarà questo prezzo veramente basso abbiamo tolto tutte le segate di tipo estetico cioè la post produzione del video l'abbiamo limitata al massimo per poter fare un prezzo che fosse che fosse accessibile e che avesse tutto quello che interessa a livello contenutistico sia interessante per i powerlifter ma molto più per chi da fuori vuole rubare è un prodotto di cui sono molto molto contento fine di questa introduction vi passo la parola e vi lancio verso il mondo prego grazie Ado ci sentiamo grazie mille ciao ciao allora sei andato lo spruzza quindi adesso siamo noi padroni di questa cosa qua ok e da dove partiamo Ale? beh era carino fare riferimento alla live di settimana di qualche settimana fa esatto perché come ha detto Ado all'inizio ci sono stati tanti commenti anche interessanti è stata anche un po' quella la parte bella secondo me dell'altra volta che c'è stata tanta risposta da parte di chi ci seguiva con domande dubbi e ci siamo ricordati di un commento di un ragazzo adesso non mi sovviene il nome che ricordava che aveva fatto degli studi aveva studiato con dei preparatori blasonati sono il bagno di squadre calcistiche importanti spagnoli adesso non mi ricordo le squadre forse erano le squadre che ha adorato probabilmente adesso non era altra materia e dove diceva che in sostanza il preparatore atletico in questi contesti era molto limitato nel senso che doveva curarsi in primis del fatto che gli atleti non si infortunassero e che delle preparazioni che dovevano essere diciamo concepite come forza erano in realtà molto distanti da quello che noi possiamo immaginare o percepire come una preparazione effettiva per la forza corretto steve? esatto assolutamente sì perché il feedback dopo l'ultima diretta è stato molto positivo nel senso che probabilmente era un topic che andava che andava un attimo sviscerato e ha fatto piacere a tutti probabilmente sentirne parlare e come tutte le cose poi c'è stata anche la parte in cui sono arrivate delle critiche o dove magari qualcuno andava a far notare che a livelli alti a quanto pare si parlava di calcio in questo determinato riferimento ma vale un po' da tutte le parti gli atleti sono lì perché sono già atleti sono già forti sono già veloci sanno già fare tutto il compito del preparatore atletico è solo quello di tenerli sul pezzo e fare in modo che non si facciano del male che personalmente io se fossi quel preparatore atletico mi sentirei un po' un po' sminuito nel senso io sono qui perché voglio fare la differenza voglio elevare il livello degli atleti che ci sono in questa squadra dell'atleta singola se si parla di una disciplina singola ok avere paura di fare del male probabilmente è più un sinonimo di non essere molto sicuri di quello che si sta facendo perché oggettivamente se io sono sicuro del mio lavoro di come lavoro di quello che faccio fare e degli effetti che ha la mia preparazione atletica non posso e non devo nemmeno avere il dubbio però c'è il 50% di possibilità che qualcuno qua si faccia del male perché questo non è sicuramente sinonimo di professionalità e sicuramente non è sinonimo di padronanza del mestiere io lavoro con cose che devo conoscere e devo saperle usare nel migliore dei modi per fare la differenza sul campo non sono lì per limitare i danni ed è un po' questo che ha lanciato un attimo che mi ha acceso in testa l'idea di fare l'ultimo di scrivere l'ultimo articolo che se per caso ce l'hai sotto manuale mandalo nei commenti che di solito aiuta per chi se l'è perso sostanzialmente questo articolo con titolo quando avere troppi muscoli può diventare un problema è stato un titolo un po' provocatorio nel senso che venendo da il powerlifting venendo dal bodybuilding come spesso in accademia usciamo da quel settore lì avere tanti muscoli non è mai stato un problema a chiunque nel powerlifting se può mettere muscolo lo mette nel bodybuilding Francesco lo saprai meglio di me che probabilmente più muscolo hai meglio è nella preparazione atletica però non è tutto avere muscoli anzi ci sono delle situazioni che apparentemente avere muscolo non è poi così vantaggioso mi riferisco a tutti quegli sport in cui magari c'è gli sport di resistenza in cui lo sforzo va portato per molto tempo ed è uno sforzo prettamente aerobico avere addosso essere 100 kg con una massa muscolare imponente non è sicuramente un vantaggio ok però va un attimo contestualizzata quella cosa qua nel senso che questo non deve escludere a prescindere l'allenamento con i sovraccarichi anzi va sicuramente modulato in maniera diversa rispetto a uno sport più più indirizzato verso un lavoro anaerobico con questo del lancio del peso tutti gli sport che prevedono un livello di forza alto di forza massimale esplosiva e ancora di più va saputo coniugare mitigare come volete negli sport tra virgolette ibridi nell'articolo definiti ibridi ovvero degli sport che prevedono sì uno sforzo a livello aerobico quindi devono magari correre mantenere la prestazione per diversi minuti ma c'è anche una richiesta di sforzi anaerobici cioè quindi forza esplosiva magari non forza massimale però la forza esplosiva sappiamo visto che abbiamo fatto l'ultima live che è anche direttamente correlata alla forza massimale e quindi in questi contesti è molto importante il lavoro che si fa con i sovraccarichi e ancora di più lo è perché il tempo che si ha per effettuare questo tipo di lavoro è ulteriormente ridotto rispetto a quegli sport in cui la forza è predominante quindi in queste situazioni è ancora più importante lavorare bene in quei frangenti è ancora più importante avere le idee chiare di cosa si sta facendo perché se già ho poco tempo e in più mi ritrovo a fare dei lavori un po' troppo approssimativi difficilmente ci porto a casa qualcosa e lì probabilmente l'approccio del vediamo di non far danno è l'approccio migliore viceversa io la vedrei in quella maniera qua ho poco tempo per lavorare su determinati aspetti che sono la forza massimale esplosiva tutta quella che volete in quei determinati frangenti io devo fare qualcosa che sia super efficace che funzioni e che sia di un impatto gigantesco ed è un po' quello che stiamo cercando di offrire noi in accademia a livello di metodica d'allenamento che parte da un contesto di powerlifting cioè dopo l'ultima diretta tante critiche sono state eh ma così sembra che uno che gioca a calcio deve fare powerlifting assolutamente no uno che gioca a calcio non deve fare la programmazione di uno che gareggia in 83 agli open però deve fare stacco deve fare squat può fare panca perché no ma l'importante è che faccia una cosa con un senso sia a livello tecnico cioè a livello motorio deve fare un movimento che ha un senso che sviluppi un determinato pattern motorio e che induca a una determinata crescita muscolare correlata a un a un transfer motorio perché se io faccio squat bene nel vero senso della parola cioè se coinvolgo i muscoli giusti alla profondità giusta con il timing giusto il miglioramento ce l'ho anche quando sono sul campo eh se viceversa se quando faccio squat lo faccio così senza cognizione di causa allora sì che diventa controproducente e allora sì che forse è meglio fare altro eh quindi il pensiero di quell'articolo qua è nato un attimo da dall'esigenza di specificare questa cosa ok che avere muscoli non vuol dire fare powerlifting avere muscoli vuol dire essere padrone del proprio corpo al punto che lo induco ad avere una maggiore prestanza avere muscoli è un vantaggio se un calciatore se tutti i calciatori serie A potessero fare squat con il doppio proprio peso corporeo sarebbero indubbiamente più prestanti a giocare a calcio se e c'è un se per arrivare a fare questo vengono guidati nella maniera corretta ok Francesco tu vuoi aggiungere qualcosa? No nel senso penso che la cosa un po' più magari tecnica da definire che può essere interessante è il fatto di dire che l'aumento di ipertrofia è un adattamento di solito non per forza voluto da quello che è l'aumento di forza quindi di base è una conseguenza non per forza solo relativo all'aumento di forza però può essere una causa e può essere quindi da quello che è l'argomento di stasera funzionale o non funzionale nel senso che se si hanno delle sollecitazioni prevalentemente della parte nervosa quindi un aumento di forza massima prettamente neurale sicuramente è un adattamento funzionale a chiunque e quindi come dici tu è sicuramente avere una cilindrata maggiore che può essere di beneficio per qualsiasi atleta mentre invece magari avere un adattamento puro ed unico della parte miogena che può essere quindi più un discorso strutturale quindi lavoro tipico di ipertrofia da bodybuilder ovviamente possiamo parlare di un'ipertrofia non funzionale su alcuni soggetti che sono davvero davvero rari prendo ad esempio uno sprinter se magari mi prende 100 davvero come dicevi tu prende tanti chili è molto pesante pur essendo muscoloso potrebbe essere un peggioramento perché non è in realtà più forte più potente quindi rapporto peso potenza però è una cosa davvero difficile perché prima di tutto io personalmente perlomeno su un campione ampio di persone se prendi 10 atleti avere gente che ti cresce così facilmente è davvero difficile altrimenti non cercheremmo tutti di fare programmi svolti all'ipertrofia o cercare di mettere su massa magra e quindi già appartiene dal presupposto che è una cosa difficile punto due essendo degli atleti che magari già fanno un altro sport è davvero difficile avere questo come dire contraindicazione dell'aumento del peso che diventa un aspetto negativo piuttosto che positivo però penso che sia questa la parte importante principale da chiarire esatto cioè che alla fine è la famosa differenza tra ipertrofia sarcoplasmatica e ipertrofia miofibrillale senza andare a usare termini da scienziati però il senso è che probabilmente in una preparazione più simile a cosa fa un bodybuilder avrò magari un po' più di volume muscolare ma non necessariamente una sezione muscolare più grossa più una fibra maggiore una fibra più grossa che va a tirare quindi a erogare maggiore forza ma sarò tra virgolette un po' più in pump in quella condizione lì e quello sì che non serve a un atleta perché a livello pratico non gli dà nessun vantaggio anzi se probabilmente diventa probabilmente uno svantaggio nel momento in cui deve portarsela in giro tutta quella massa lì però l'ipertrofia funzionale che qualche anno fa andava molto di moda a parlarne non è altro che la vera ipertrofia nel senso che il mio il mio atleta è veramente più grosso a livello muscolare ed è veramente in grado di esprimere più forza e questo può essere può fare la differenza in qualsiasi sport poi che sia predominante in uno o in un altro su quello non ci piove ma su uno sport di resistenza avere una parte di forza fatta come si deve soprattutto perché gli sport di resistenza spesso sono caratterizzati da movimenti ciclici che tendono un attimo a tra virgolette ingolfare l'atleta cioè fargli fare sempre la stessa cosa è come essere sempre nella stessa trincea camminare avanti e indietro avere quei lavori qui di forza sia a livello posturale sia a livello di recupero fanno tanto tengono l'atleta in riga e gli permettono poi di performare anche se indirettamente fanno la differenza perché gli permettono poi di performare meglio l'esempio nell'articolo avevo fatto con questa ragazza che faceva triathlon che è la cosa più lontana probabilmente da fare pesi però dal momento in cui avevamo inserito un lavoro di pesi fatto come si deve lei tempo un mese già in allenamento quando usciva a correre quando usciva a pedalare a nuotare sentiva immediatamente la differenza che non riusciva neanche a codificarla cioè si sentiva semplicemente più stabile più solida quando correva ma perché quel tono muscolare costruito in quella maniera lì fungeva da stabilizzatore e teneva il suo corpo più più in linea più più sul pezzo perché comunque correre pedalare nuotare per tanto tempo è logorante sul corpo e focalizzarsi solo su quella roba lì secondo me manca di qualcosa chiaro non deve essere vai Fran no secondo me possiamo dire che secondo me la cosa che va sdoganata di cui parlavamo già nella scorsa diretta è il fatto di credere che lavorare per mettere su massa muscolare o aumentare di forza sia controproducente o mio dio vado a spaccare la persona o mio dio come dicevi tu vado in qualche modo a ingolfarla o a peggiorare la performance perché come abbiamo detto come dicevo io prima può succedere però è davvero raro perché se prendiamo magari atleti non così d'elite effettivamente come in questo caso dici tu una triatleta ha quel lavoro di forza poi gli ha dato più stabilità quindi va a migliorare sicuramente altre componenti e riesce a migliorare anche il suo gesto specifico quindi io penso che molte volte questa cosa qua dell'ipertrofia diciamo non funzionale venga un po' usata come scusa poi su quello che è invece magari il lavoro su giocatori dell'Italy secondo me si apre un altro capitolo certo assolutamente io volevo fare una piccola considerazione nel senso che quando parliamo comunque di ipertrofia funzionale almeno a me personalmente piace pensarla un po' come hai detto te Francesco come qualcosa che non sia ricercato come fine ma che sia quasi indiretto nel senso se io faccio un programma specifico per l'ipertrofia quindi per mettere su della massa magra massa muscolare in questo senso quindi magari un po' più bodybuilding oriented in questo senso questo presuppone a monte che io perseguo a quell'obiettivo lì come fine e di conseguenza nell'allenamento avrò particolare attenzione a determinato tipo di stimolo ma anche soprattutto del volume più elevato allenante della costruzione di fatica a livello metabolico di un certo tipo che di sicuro non è quello che magari ricerchiamo quando andiamo a fare un lavoro di preparazione atletica perché abbiamo un atleta che già fa dell'altro quindi sta lì un po' il dare un input che abbia una grossa magnitudo come diceva Stefano prima ma senza ingolfare l'atleta che andiamo ad allenare se poi l'atleta facendo quei movimenti lì in determinata maniera che siano ottimali con un occhio esterno che ne garantisca la riuscita eccetera guadagna della massa muscolare aumenta capacità coordinative di espressione di forza massimale e ha cascata tutto il resto se c'è dell'aumento di massa muscolare quella allora lì sì che è massa che possiamo definire funzionale perché siamo certi che è data non come come fine con la massa muscolare ma in questo caso diventa mezzo per adattamento del programma che gli abbiamo fatto fare e sono quasi certo che quella massa lì che non sarà chissà quanta però sarà utile qualsiasi cosa farà potrà stabilizzare magari chi corre potrà magari che ne so il calciatore che deve fare una ripartenza essere più attivo e più scattante sul momento perché le ferie muscolari si accendono e si accendono meglio se posso aggiungere una cosa visto che mi ritrovo spesso in questo argomento onestamente perché molte volte lavoro magari a livello di consulenza con privati e mi si rivolgono persone che sanno comunque del mio diciamo know-how a livello di performance però vogliono migliorare a livello estetico quindi magari vogliono migliorare sotto il punto di vista dell'ipertrofia la cosa che dico io sempre è che comunque quando noi alleniamo la forza parliamo di un'abilità nel senso quello che fate voi a livello di powerlifting è il fatto di allenare un gesto e ricercare la sua massima efficienza quindi uno squat ben fatto cerco di migliorare la mia abilità in quel gesto in quella accosciata mentre invece quello che poi si va a ricercare come dicevi tu e come ho detto io prima a livello di ipertrofia l'ipertrofia è un adattamento cioè non è un'abilità che vai a sviluppare è un adattamento una conseguenza a diversi aspetti quindi bisogna ben capire quale sia l'obiettivo perché se noi partiamo dal presupposto che abbiamo bisogno di questa abilità e di questa efficienza e quindi sicuramente siamo in ambito preparazione atletica barra powerlifting o barra qualcuno che ha interesse in quell'ottica sicuramente lavoriamo in quella maniera lì e non non prescinderemo dal fatto di lavorare con sovraccarico con metodiche svolte a un progressive overload e una maggiore efficienza nel periodo di tempo mentre invece se magari andiamo a ricercare quello che è il mero adattamento quindi il discorso ipertrofico per come la vedo io entrano in come dire entrano nel pentolone altri componenti perché magari se uno vuole fare il bodybuilder bodybuilder dell'elite non è detto che debba fare per forza panca, stacco e squat perché comunque gli adattamenti a livello ipertrofico sono tanti quindi si possono comunque percorrere diverse strade per arrivare a Roma diciamo sì indubbiamente una cosa da sottolineare a livello di preparazione è che se noi qui facciamo troppo poco in America magari fanno anche troppo tanto più che troppo tanto un po' troppo approssimativo e mi è venuto mentre parlavi tu all'esempio di per esempio Lebron James più o meno metà carriera quando era a Miami ha avuto un calo drastico di peso da una stagione all'altra e io l'ho sempre interpretata in quella maniera qua lui era diventato meno efficiente sul campo probabilmente sì perché se poi sono calati di sicuro non sono coglioni dall'altra parte però perché era arrivato a un calo di prestazione con addosso dei muscoli allora penso che chiunque ci stia guardando abbia una vaga idea di chi sia Lebron James però comunque è un soggetto che si giocava al parchetto esatto muscolarmente molto dotato quindi probabilmente uno che tende a mettere molta massa muscolare già dai primi anni del del liceo cioè sembrava avesse 25 anni quando ne aveva 15 sostanzialmente e quindi poi con la prova il NBA probabilmente tutto il mondo che c'è stato intorno a livello di conditioning e quant'altro non ha fatto altro che far esplodere il suo corpo facendolo arrivare a un punto in cui probabilmente si sono messi lì a un tavolo e mi hanno detto ascolta tu quando così pesante sei meno prestante di 5 kg in meno 7 kg in meno era calato tanto e mi ricordo da una stagione all'altra che l'avevo vista è un esempio che faccio sempre anch'io davvero però lì secondo me la chiave di lettura è come sono stati costruiti quei muscoli nel senso sono stati fatti con un programma con un filologico con un'esecuzione come si deve o semplicemente gli abbiamo buttato addosso dei pesi e lui per la sua natura genetica boom ha messo su ste spalle e poi effettivamente quando doveva fare davanti e indietro sui 40 metri era in difficoltà che è quello che probabilmente senza peccare di presunzione manca un po' agli americani fanno tanto tanto lì sono tante persone quindi sul pool c'è gente magari anche più portata andando senza per forza andare su afroamericani bianchi e quant'altro però comunque quando hai così tanta gente che fa pesi già da quando sono ragazzini perché comunque al liceo comincia è il più scarsone di tutti al liceo fa pesi qua se prendi un giocatore di pallacanestro nato e cresciuto in Italia è già un miracolo che faccia pesi a 18 anni perché prima hanno paura che imploda come è stato contestualizzata quella cosa lì perché io sono convinto al 100% che se Lebron James avesse fatto un percorso sotto i pesi ponderato con dei movimenti sensati con una struttura d'allenamento per arrivare a farlo diventare effettivamente più grosso ma perché i suoi muscoli erano effettivamente più grossi e tiravano spingevano di più secondo me non ci sarebbe stato necessità di scendere di peso perché lì è stato un passo indietro su una mancanza di preparazione perché non è che si è messo muscolo sono stato bravo perché lì è stato un passo indietro da quel punto di vista lì perché si sono accorti che non era la strada da fare chiaro su Lebron James è una cosa estremizzata perché comunque prendi un soggetto che mette muscolo solo ad alzarsi dalla sedia probabilmente però secondo me è applicabile in chiave globale perché comunque anche un soggetto non dotato non ha bisogno di bodybuilding ha bisogno di uno strength training sensato con dei movimenti con un filo logico e una programmazione che lo porti a essere più forte e di conseguenza più grosso esatto poi c'è anche da dire un attimo la controparte nel senso che cioè non è che tutti sono Lebron James nel senso quindi a maggior ragione molto probabilmente si dovrebbe curare di più questo lato qua cioè se Lebron gli hanno buttato su carne perché la prendeva e ha sempre fatto quello che gli è stato detto e l'ha presa ed è arrivato a un punto che è dovuto scendere secondo me molto probabilmente dalla nostra parte stiamo facendo molto poco per avvicinarci a quel livello di Lebron James per cui poi è dovuto scendere quindi non è che si corra poi così tanto il rischio non di fare perché noi dobbiamo metterlo sempre in ottica di doverlo farlo in quella maniera che abbiamo detto perché è quello che poi non ti fa sbagliare però è uno è uno spunto in più per cercare di ragionare vederlo un attimino come per dire non è che forse qui come tornando all'inizio devo limitare solamente l'infortunio anzi perché ad esempio prima io e Stefano parlavamo ci sono anche certi magari sempre prendendo il calcio certi giocatori che ad oggi magari curano un po' di più l'aspetto anche fisico anche banalmente per dei commercial o robe del genere prendiamo Cristiano Ronaldo che è quello che per eccellenza si sa che si allena sempre è super dedicato però Cristiano Ronaldo non sappiamo effettivamente quanto scuoti o che programma faccia molto probabilmente magari non seguono anche un tipo di logica simile se la seguisse sul campo come cambierebbe sarebbe da vedere boh io qua sapete non faccio troppo la controparte se no poi Addo si arrabbia invece la devi fare la devi fare no vabbè dico c'è gente come Cristiano Ronaldo secondo me solo il fatto di pensare di dovergli cambiare qualcosa è errato perché se prendete Cristiano Ronaldo è errato se poi ci riferiamo ad altri concordo come magari parlavamo altre volte effettivamente può essere però io ci tengo a farla capire questa cosa perché se no sembra sempre troppo tutto banale ad alto livello so che sembra sempre la scusa però è davvero davvero difficile perché o inizi a lavorare con quelle determinate metodiche dal settore giovanile quindi tiri su una persona così oppure se ti trovi un giocatore fatta e finito ti arriva Cristiano Ronaldo cioè voi avreste le palle se vi arriva Cristiano Ronaldo di dirgli oh aspetta tutto quello che hai fatto fino adesso non far più niente iniziamo a far spot stacco io non ce le avrei le palle voi se ce le avete dovete comunque mettere nell'ottica che dovete parlare con una persona d'esperienza che avrà sicuramente dei feedback suoi e magari vi dico anche questa cosa del fatto che Cristiano Ronaldo non faccia lo squat secondo me non è neanche vero perché comunque sarà uno che ora non ho presente Cristiano Ronaldo gli allenamenti non ho mai visto niente però non penso sia proprio uno scarsone e penso che siano giocatori talmente evoluti che negli anni abbiano ormai una propria routine che è difficile da andare a modificare quindi sono tanti i fattori se si prende dal settore giovanile si lavora con un ragazzo giovane sicuramente è più facile con giocatori evoluti diventa difficile perché magari sono loro i primi che hanno paura a dover cambiare metodica o comunque voi avete poco tempo a disposizione perché il discorso secondo me è semplice se noi parliamo di esercizi di pesistica olimpica o comunque esercizi powerlifting stacco panca squat per quanto si possa dire che non sono così difficili sicuramente sono più difficili o comunque richiedono più tempo rispetto ad altre cose quindi il fatto di dire se non ho tantissimo tempo non lavoro da più stagioni con un giocatore me lo ritrovo lì a inizio anno gli vado a modificare tutto non è semplice a volte cioè mi dispiace ma è così ma vai il discorso vai vai scusami però questa è tenendo conto della variabile del contesto e a livello logistico e e proprio il contesto di essere già su già a livelli alti e quindi avere meno libertà di potersi imporre su un giocatore e dirgli guarda che hai 30 anni e 15 anni che stai facendo qualcosa di sbagliato ok però tu se tu potessi eliminare tutto quel contesto lì no non è esatto è qua secondo me che bisogna che bisogna picchiare ah no quello sono d'accordissimo ce lo prendiamo da giovane sulle metodologie che ormai non è che io penso che a livello metodologico per chi è sul campo o studia non è che ci siano tanti dubbi poi possiamo discutere magari io e Gruzza sulla profondità di uno squat se gli fa schifo che è troppo alto o se è troppo profondo però parliamo comunque di uno squat parliamo di gente che sposta dei carichi interessanti parliamo di cose simili penso che ormai ci sia abbastanza la concezione di cosa si debba fare purtroppo è vero che nella preparazione atletica ad alto livello l'allenamento della forza è un po' con l'asterisco perché con l'asterisco perché i preparatori ad alto livello vuoi non vuoi la verità è che si cagano in mano e quindi per non rischiare i giocatori si fa più lavoro preventivo che performante e vi dico siete quasi costretti perché cioè non lo so prendo anche il mio esempio questa settimana ho due partite nella squadra dove lavoro in serie A2 i giocatori si allenano tutti i giorni fanno praticamente doppio tutti i giorni con due partite a settimana devono scaricare un minimo io non posso fare più di una sessione di pesi nella settimana se ho due partite settimanali e se ho una singola sessione di pesi permettetemi che a meno che abbia una persona davvero evoluta dal punto di vista di resistance training e gestione dei carichi cosa che non accade perché questi qua comunque sono giocatori di pallacanestro e non sollevatori di pesi non posso permettermi di andare ad affaticarli così tanto dal punto di vista neurale perché comunque anche che li mettessi a fare delle triple al non lo so al 70% 75% il giocatore comunque siccome non è abituato perché partiamo sempre da quel presupposto lo percepisce pesante ovvio a un giocatore che è abituato gestisce bene i carichi si muove bene posso anche permettermi in quella singola seduta di fare qualcosina di più e io lo faccio io sono una mosca bianca infatti tra quelli che ci sono nell'ambito della preparazione atletica però vi dico pur essendo una mosca bianca capisco anche altre persone perché ti ritrovi al Milan hai due partite a settimana c'hai Zlatan Ibrahimovic che ha tanto di esperienza ha tanti anni preferisci rompergli il cazzo e mettergli a fare lo spot pesante che non lo fa magari da 15 anni o lo tieni in forma e sei sicuro di non andargli a causare problemi io ero uno di quelli che diceva chi se ne frega deve performare poi vi assicuro che però se ci sono sfighe siete sfigati perché appena c'è qualcosina ce l'hanno col preparatore il preparatore e poi il primo che viene tagliato Sì certo il discorso era da secondo me contestualizzare anche ritornando a quello che abbiamo detto prima su Lebrone su ad esempio Ronaldo così in un contesto più idealizzato nel quale già dalle giovanili come abbiamo detto c'è una crescita che ti porta a fare questo più che la domanda se andarlo a fare andare un atleta di così alto calibro più pesante a conti fatti ti direi più vediamo se lo fai bene per poi dopo magari pensare di andare pesante Secondo me come dicevate prima Lebrone James probabilmente è un caso rarissimo ma in realtà per come la vedo io in realtà neanche così raro perché vi assicuro che poi se in Italia magari non c'è questa fortuna però io ho già avuto magari modo ma anche tante altre persone suppongo di lavorare magari con non voglio sembrare ora discriminante razzista però diciamo con persone di colore o comunque persone che già geneticamente lo vedi sono più dotate cazzo ci rimani poi quando li vedi perché io ho dei casi c'è gente magari atleta degli Stati Uniti abituato a non fare un cazzo lo metti lì tre settimane sposta un po' di pesi questo diventa il triplo e sposta i carichi che gli altri magari si stanno allenando da X e se li sognano infatti io sono uno dei primi sempre a puntare sulla cosa della genetica per quanto in Italia ormai tutti la sfottano che dicono no non conta un cazzo ti devi solo fare quello noi veniamo dal contesto powerlifting è ancora più estremizzata quella cosa qua esatto ottimo quindi siete in linea quindi diciamo che come la vedo io Lebron James comunque ci nasci poi ti fai un culo della madonna però ci nasci e in quei casi lì io lo assicuro ci gioco quello che volete mi è capitato ne ho visti c'è gente che pur allenandosi di merda pur facendo le cose a caso praticamente hanno dei guadagni che gente che magari sono io mi faccio le pippe mentali da x anni faccio tutto preciso non ci arrivo ma non ci arrivo semplicemente perché non sono portato a fare quella cosa lì ma non è un discorso che non sono portato secondo me adesso non vorrei dilungarmi però è un discorso reale di patrimonio genetico perché questi cioè parliamo di gente che è stata selezionata in maniera naturale sono stati portati lì come chi è non lo so Usain Bolt in giamaica vuol dire che comunque tutti i suoi discendenti è gente che è stata super selezionata che è riuscita a sopravvivere a tutte le angherie che hanno avuto deportati e quant'altro è ovvio che ti ritrovi gente davanti che quello è nato a correre cioè col cazzo che se tu non hai quelle fibre di Usain Bolt non li farai mai in quei tempi quindi tralasciando questi casi qui il discorso del dire ipertrofia non funzionale oh mio dio il giocatore mi diventa troppo grosso oh mio dio non corre cazzo ce ne vuole perché poi un'altra cosa che nessuno cita mai non avete citato neanche voi quindi ci tengo a dirla è l'aspetto nutrizionale perché anche lì cioè hai voglia di o ti fai le bombe o se no col cazzo che se mi corri l'alimentazione non mi stai sul plus calorico cioè non è che questo qua mi va lontano che mi diventa 400 kg e diventa grossissimo quindi partendo dal presupposto che ad alto livello gli atleti in teoria dovrebbero essere seguiti anche a livello nutrizionale se siamo già a un livello un po' più bassino se comunque a livello nutrizionale dosiamo bene il tutto questa cosa secondo me può essere fatta molto meglio di quello che si pensa sul discorso dell'ipertrofia mi riferisco funzionale non funzionale tutto qua ok scusa pensavo fosse una pausa di respiro no no cioè stavo pensando finire altro però secondo me è un tema talmente ampio che o decidiamo magari su cosa focalizzarci o se ci sono delle domande specifiche secondo me su qualcosa altrimenti è davvero grosso perché il discorso del funzionale non funzionale per come la vedo io esiste c'è il discorso in letteratura scientifica come dicevi tu ora senza far troppo lo scienziato però il discorso di ipertrofia sarcoplasmatica miofibrillare quindi sarcomeri in parallelo o in serie cosa vuol dire per chi magari dice che cazzo mi sta dicendo un adattamento a livello cellulare differente quindi il bodybuilder solleva non lo so la panca piana la fa con un centrico allunghittima ricerca una massima contrazione del pettorale ha un tooth quindi time under tension prolungato sotto quel gruppo muscolare su quel gruppo muscolare perché comunque ricerca diverse cose cioè ricerca comunque tensione meccanica quindi ricerca il carico ma non è l'unica cosa ricerca anche il danno muscolare ricerca anche lo stress metabolico perché sono cose che gli servono per l'ipertrofia mentre invece il powerlifter in realtà dovrebbe sbatterse nel cazzo del danno muscolare dello stress metabolico così come il mio atleta di calcio visto che parliamo di calcio o pallacanestro quello che volete perché se gli faccio fare degli esercizi con tutto prolungati danno muscolare stress metabolico lì sì che sto lavorando male quindi parliamo di metodologia di come andiamo ad utilizzare i nostri mezzi allenanti quindi torniamo sul discorso che faceva Stefano che bisogna vedere come cacchio gliele fai fare sti squat stacchi panca o complementari perché secondo me il discorso è tutto qua una volta che abbiamo chiarito questi due punti che ho detto tre punti secondo me siamo tutti in linea e si tratta solo di capire caso specifico obiettivo e quale metodologia utilizzare però su questi punti penso che si possa discutere poco sì no secondo me il fulcro della questione è il il singolo movimento nel senso tutto diventa estremamente complicato quando il movimento non c'è o c'è in una maniera troppo approssimativa che ha delle conseguenze indesiderate quindi secondo me il messaggio che può essere quello quello della serata perché no è che bisogna riuscire a dare non una non bisogna standardizzare il movimento e poi la programmazione se si parla di squadre o quant'altro in realtà bisogna riuscire a dare il movimento efficace a tutti che secondo me è questa la parte difficile di quando uno prende in mano una squadra e dice ok devo far far scuota 15 persone che sono alte 2 metri adesso che cazzo mi invento e non è che cazzo mi invento tu devi sapere come far fare squat a tutte quelle 15 persone e una volta che quelle 15 persone sanno fare squat che io per mia esperienza non ci metto troppo a farlo perché nel senso puoi avere le leve di merda quanto vuoi però per far squat se non hai delle patologie particolari a livello della schiena o che cosa comunque se sei a livello alto si presuppone che un atleta sei e se non sei in grado di far squat allora c'è un problema di fondo una volta che non è così scontato scusa lo so però lì però lì non devi sentirti in difetto tu come preparatore ma devi fargli sentire il difetto a lui no no io non mi sono sentito in difetto però vi assicuro che non è così scontato perché se prendiamo ad esempio i giocatori di pallacanestro parliamo di persone fuori media cioè parliamo di persone che sono state selezionate per quell'essere fuori media cosa intendo persone di due metri e quindici vi assicuro che se questi da piccolini non hanno fatto lavoro di mobilità ve li ritrovate a vent'anni che fanno cagare cioè non sanno fare un'accosciata ma sono impossibilitati ed è davvero difficile portarli a fare un'accosciata completa fatta bene non è una scusa io non sto dicendo che ora faccio lo stesso gioco non fa l'accosciata ci mancherebbe però vi dico ci sono molte persone che proprio perché sono forti in quello che fanno hanno tutta una conseguenza di compensi cioè no 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 ci mancherebbe però io che alleno a livello molto più basso del tuo spesso mi ritrovo con sì quello di due metri a 40 anni cioè quindi fine carriera sceso dalla serie C si è rotto i coglioni non c'è voglia di non è facile ma io ti dico che io in quel contesto lì io lo porto a fare squat e lui si meraviglia e mi dice cazzo ma non pensavo fosse così così facile perché alla fine se tu gli dai i riferimenti giusti a meno che una non sia proprio un troglodita motorio cioè io nelle esperienze con due semplici settimanali secondo me nel giro ora non mi ricordo quanto hai detto di settimane se lavori già così non lo so 12 settimane ci dovresti arrivare a fargli fare uno squat fatto bene completo bello e con dei carichi decenti sono d'accordissimo perché hai detto alle una sessione ma sì nel senso poi io ho lavorato tanto in palestra con l'audience con il il materiale più scrauso perché comunque lavori in una palestra commerciale e ti arriva lì lo schifo dello schifo ok a livello motorio intendo non a livello di persone perché in realtà ci mancherebbe però se tu con quel con quel con quel materiale impari a far fare squat a far far stacco e davvero in due sedute come dice Ale si riesce si riesce una volta che uno è abituato a farlo si riesce cazzo quando prendi in mano un atleta formato che dici cazzo questo qui vive del suo corpo vive facendo l'atleta dovrebbe essere ancora più facile non lo è nel momento in cui questo si sente arrivato e quindi cioè non ha voglia di mettere in discussione quello che ha fatto e quello che fa e immagino tu mi possa confermare è un atteggiamento che magari un americano che viene a giocare in Europa ha nel senso loro poi loro li fanno quindi non è il problema dell'americano però ci sono tanti giocatori che magari sono già come dici tu atteggiamento da arrivato cioè è lì è lì il problema secondo me sì a discorso a livello logistico perché comunque poi la società deve credere in quello che fai al punto e deve crederci parecchio se tu vuoi mettere in dubbio e ribaltare tutta la situazione bravo su quello non ci piove però sarebbe figo arrivarci un giorno trovare un modo per partire da una giovanile più giovanili e far vedere che questa cosa funziona così super sarebbe davvero super e ti do ragione in pieno dico io concordo vi faccio un esempio solo per far capire un po' ancora il mio punto di vista sul fatto del difendere un po' la categoria del dire non è semplice io ho avuto diverse esperienze può essere una fortuna o uno svantaggio perché effettivamente come dici tu magari non ho avuto quello stesso atleta per diversi anni inizialmente vi assicuro che comunque se uno non ha magari tutta quella confidenza con i giocatori è il primo anno o comunque non sei sicuro di rimanere più tempo con quella persona è difficile perché appunto se arrivi in corso d'opera o comunque inizio stagione ti ritrovi di base gente che d'estate ha fatto poco o comunque anche se sono atleti professionisti devi comunque fare una sorta di anatomical adaptation comunque riportarli tutti a uno stesso livello e se parliamo di calcio pallacanestro pallavolo i principali sport magari in Italia ti ritrovi comunque in società dove lavora un preparatore nel calcio parliamo di top level Juve Milan ti ritrovi tre preparatori e ti ritrovi comunque una rosa bella numerosa cosa vuol dire che pallacanestro magari ti ritrovi quindici giocatori calcio te ne ritrovi ventiquattro ventidue dipende e quindi comunque tu conta che arrivi ambiente nuovo uomini nuovi perché prima dell'atleta c'è l'uomo tu devi entrare in empatia con l'uomo perché come dicevamo prima magari ti arriva l'americano più grande di te o non lo so tu per lui non conti un cazzo quindi non ti vuole neanche ascoltare devi entrare in empatia con quello che è lo staff tecnico perché comunque come dicevamo nella prima nella prima diretta se l'allenatore decide che gli squat fanno cagare gli squat fanno cagare punto e fine e non puoi farci molto perché o mandano via l'allenatore o mandano via te e i primi allenamenti comunque io che inizio ad avere magari le mie due sessioni di pesi a settimana ho davanti quindici atleti che devo gestire praticamente tutti insieme poi io sono bravo ci spendo del tempo extra inizio a far unire qualcuno in altri momenti della giornata sessioni singole inizio a impostargli lo squat se abbiamo comunque questo contesto e vi assicuro che questo contesto più vai ad alto livello più è complicato perché potrei tirarvi fuori 8000 robe c'è da il direttore sportivo che arriva a chiederti cosa fai il giocatore che ti dice ma col preparatore vecchio facevo così il giocatore perché no guarda io il bilanciere sulla schiena no perché mi fa male quindi arrivi e ti ritrovi tutte queste variabili cazzo io vi assicuro io ci batto sono adesso faccio tanto non mi guarderà nessuno dove lavoro settembre ottobre novembre siamo a dicembre io in quattro mesi adesso posso dire che tutti i miei giocatori tutti dal primo all'ultimo fanno lo squat poi cioè fanno lo squat fanno la panca fanno lo stacco lo stacco da vedere qualcuno magari su tra barre non ne avevo già parlato comunque ci metti un po' di tempo per fargli arrivare a fare degli esercizi corretti con delle esecuzioni corrette poi per tornare se sta vedendo Ado che sul discorso del in season complicata c'è anche il fatto di dire che io devo percepire quello che comunque mi dà di feedback il giocatore e quella che è la settimana nel senso se mi ritrovo due partite settimanali e so che questo giocatore qua ha poche sedute di pesi perché ce ne ha una barra due o magari al massimo tre e non voglio sovraccaricarlo troppo e voglio fare magari dei lavori specifici perché voglio mantenerlo comunque più vicino ad angoli di gioco e so che questa roba a voi non piace però vi assicuro che al giocatore lo influenza perché solo già a livello concettuale se inizi a fare una seduta due sedute settimanali dove li metti dentro negli altri lavori magari su non lo so salto perché anche lì iniziamo a parlare di problemi a livello metodologico ovvero transfer di forza cosa faccio due esercizi simili perché lì c'è una confusione allucinante e quello secondo me è un altro problema principalmente nel calcio perché lì ti dicono eh no li faccio fare non lo so lo squat sulla bosu perché crea instabilità e poi mi fa dei drop jump perché così sto allenando il salto su superficie instabile sul terreno e quindi lo squat pesante non glielo faccio perché non scende così tanto e lì c'è un problema concettuale ce ne sono tanti io questo lo metto da parte perché non sono di quelli che dice no che cazzo mi serve però vi dico star vicino agli angoli di lavoro non dico sempre però ogni tanto specialmente nelle settimane pesanti è utile perché il giocatore lo percepisce non è trattante e comunque riesce ad essere più efficiente su poi quello che è il gesto specifico quindi io discutevo con Ado perché ho messo lo squat di un ragazzo che era non so come definirlo un quarto di squat pesante io quella seduta l'unica che mi faceva comunque su transfer di salto preferisco che mi faccia uno squat pesante perché lo sveglio un po' a livello neurale piuttosto che metterlo lì a fare uno squat completo bello magari come piace più a voi con meno peso un po' più lento perché secondo me c'è il discorso sempre della velocità che viene considerata meno perché io qua secondo me possiamo discuterne un pochino magari non sarete concordi da subito però io mi alleno da diversi anni e secondo me gestire anche questi classici chiamiamoli big 3 in maniera appropriata riuscendo a modulare bene le velocità di esecuzione secondo me non è una roba così banale cioè nel senso ci sono tanti fattori che sono concomitanti a quello ovvero io posso sapere che ho un 210 di squat che a voi fa ridere massimale però ci sono dei giorni che mi sveglio e magari 160 kg li muovo velocissimi dei giorni che sto morendo e faccio fatica e per il giocatore è così quindi è quasi un doverlo percepire è quasi un assessment giorno per giorno diventa più difficile avere una programmazione stile PL 12 settimane questo giorno fai questa percentuale questo giorno fai questa percentuale questo giorno ne fai un'altra perché perché ci sono mille variabili magari mi ha fatto la partita due giorni prima ha preso una botta sul culo e quel giorno lì ma anche vuoi farlo di fuote ti manda a puttane tutto il programma è ovvio che se lavoro con un ragazzino o sono a un livello un po' più basso gli do un calcio in culo anche allo junior e sal gli under lo fai non rompe le bale se ti ritrovi davanti uno che è più simile a un Cristiano Ronaldo ora nomino Cristiano Ronaldo ma non nomino neanche gente di Serie A2 però qualcuno che è molto impegnato sul suo sport cacchio ci vai più attento perché vuol dire che stai andando comunque molto contro a quello che è abituato e sono d'accordo che in realtà è giusto andare in quell'ottica però è giusto come dicevamo prima andare da quando sei piccolo perché prendere un giocatore voluto e magari metterlo lì a fare solo squat panca a stacco fatti perfetti per 12 settimane in progressione su quella singola oretta che ho dove magari non riesco neanche a guardarlo benissimo solo a lui perché ho altri in sala pesi cazzo io preferisco sapere che magari questo è forte mi sto facendo un quarto di squat perché poi c'è altri due esercizi che sono specifici su quello che è il salto mi mantiene un primo esercizio bello pesante si attiva a livello neurale e sono felice così in realtà che tu ci creda no mi trovi molto in accordo su questo tuo approccio in realtà personalmente cioè nel senso ti hai introdotto un po' di variabili per quanto riguarda la metodologia della programmazione di un allenamento che sono contestualizzabili sempre in base allo sport che l'atleta va a fare nel senso specificità adattabilità distribuzione dei carichi settimanali metodologia in seduta nel macro ciclo cioè sono cose che giustamente hai introdotto e secondo me è corretto nel senso quello che penso io è che tu in quella seduta gli hai voluto fargli fare il quarto di squat adesso non so se era un quarto di squat normale magari io l'avrei fatto ad esempio sui pin per dargli quell'attivazione che poi dopo sul salto gli avrebbe dato quella percezione di facilità e di estrogità esatto e ci sta considerato il fatto che comunque poi dopo vai a fare un movimento più specifico e utilizzi lo squat in una variante per creare dell'attivazione neurale giusto corretto giustissimo ok quello che volevo dire è che alla fine quella roba lì ci sta tutta molto probabilmente però la costruzione di un movimento che magari a volte è più complesso penso che sia una roba che magari pensi di fare di più in off season in questo caso e poi portartela dietro in season con i debuti accorgimenti in questo caso ma infatti io dicevo io adesso sono costretto a far così perché perché sono qua da tre mesi io non ci ho mai lavorato questo ragazzo in off season io non ho mai avuto il tempo di fare una programmazione su 12 settimane fatta bene a livello di pattern motorio su quello che è lo squat quando riesco a fargli fare e quello vabbè uno dei giocatori più forti che ho mi fa due sedute a settimana sempre sulla seduta due che tengo magari più leggera perché fa più parte alta che parte bassa ha comunque di parte bassa uno squat fatto bene con molto meno peso ed è uno squat diciamo ad hoc canonico canonico però onestamente su quello che mi dà nell'immediato lo vedo meno proficuo nel senso che io il fatto di essere sicuro che mi stia facendo un gesto fatto bene a livello di efficienza in quel caso quello squat lo vedo quasi più un mantenimento di forza ed un lavoro preventivo piuttosto che l'altro lavoro che mi fa che è un lavoro più a contrasto dove invece per quella che è la mia idea paradossalmente lo vado a performare o comunque a stressare di più su quell'altro tipo di lavoro non so se mi sono spiegato perché comunque parliamo sempre del discorso che facevo nella prima tu lo dici sempre per un discorso sia di specificità che in termini di ritorno perché io lavoro sulla potenza cioè è quello che dicevo l'altra volta noi parliamo se parliamo di potenza si parla lavoro fratto tempo e forza per spostamento quindi forza per velocità vuol dire che comunque c'è la componente della velocità cazzo e voi ora non lo dico con cattiveria però nel powerlifting questa cosa per come la vedo io è considerata molto meno perché c'è è una roba che io io stimo tantissimo Ado io penso che eh tecnico eh evoluto comunque gente brava voi che allenate da un po' eh e siete a buon lì eh e percepite il vostro atleta magari lo vedete spesso anche senza prendere il BBT eh lo vedete lì a occhio e cazzo lo percepite se è un'alzata sta diventando lenta è troppo veloce o sta spingendo i centosessanta chili che sarebbe il suo ottantacinque per cento lo sta tenendo da tre settimane e cazzo sta settimana li muove che ha una cannonata e quindi probabilmente ne ha molti di più eh quella secondo me è bravura cioè è il fatto che voi avete sviluppato ehm concezione e comunque abilità a livello di occhio che va a fare la differenza però è una cosa che poi deve essere tenuta a conto soprattutto nella preparazione atletica perché quando lavoriamo sul gesto di potenza che è quello che poi serve sul campo c'è la componente di velocità quindi io sono d'accordo che bisogna fare eh lo squat fatto bene tutti gli esercizi fatti bene per andare a migliorare i livelli di forza e bla 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 però proprio perché parliamo di giocatori evoluti di base eh cioè quel ragazzo lì se lo metto a fare lo squat fatto bene lo fa lo squat fatto bene si tratta solo di ehm possiamo definirlo mh abitudine alla biomeccanica del movimento perché quel ragazzo lì non ha alcun problema cioè non ha problemi di mobilità eh o quello che vuoi cioè gli chiedi qualsiasi roba lui te la fa in quel momento però per tutto il contesto esterno per allenarlo a livello di potenza in maniera più ottimale io preferisco fargli fare un gesto più esplosivo dove della cosciata se mi scendo due centimetri più giù più su meno me ne ha fatto un cazzo ok e qui la mia domanda è questa siamo sicuri che eh maggior velocità quindi tra virgolette maggior transfer cioè nell'erogazione della forza quando poi salto e quando faccio quello che devo fare nel mio sport sia eh correlata direttamente a quello che faccio invece per potenziarmi nel senso eh il tuo discorso è stato eh lavorano con angoli più simili al salto cioè il quarto di scuota è molto più simile a quando saltano per andare a rimbalzo e la forza che viene la velocità con cui la forza viene erogata è molto più simile a quando poi saltano sì ok questo perché ci hanno fatto però il succo è quella roba qua ci hanno fatto degli degli studi delle robe dei test a riguardo e si sono accorti che effettivamente quando uno fa quel tipo di squat quel quarto di squat ha più transfer sia a livello neurale che a livello di prestazione subito quando salta mentre quando va giù di più eh dagli studi non è risultata questa cosa sì la mia domanda faccio una postilla poi te la faccio finire considera che è una cosa che non viene citata mai ma eh ormai penso sia più o meno davvero duemila e cinque è un discorso di anche coattivazione dei muscoli antagonisti cosa vuol dire che comunque tu hai un minor C che sarebbe coindex di attivazione cosa voglio dire che se io vado a fare un gesto così completo sotto il parallelo lento controllato comunque mi sta andando ad attivare molti muscoli stabilizzatori e la sua centralina sta comunque disperdendo energia su altra roba che paradossalmente in quel momento siccome sto ricercando una roba massimale di attivazione non ne ho bisogno e quindi è proprio quello il beneficio di esercizi come la pesistica olimpica perché ti richiede quel gesto a uno ora mi viene in inglese stretch shortening cycle in italiano come lavoro di biometria è quello il beneficio di quell'esercizio quindi è quella cosa che cerco scusa che ti ho interrotto esatto e la mia domanda è siamo sicuri che quando sono fatti questi test questi studi quelli del gruppo in cui scendevano tanto di squat e rompevano il parallelo e quant'altro fossero davvero in grado di fare squat perché secondo me l'articolo di Nicola Marini che è uscito settimana scorsa a riguardo che pare fosse intitolato perché gli studi la pratica è diversa da ciò che evidenzano gli studi sostanzialmente secondo me lì c'è da capire chi faceva squat per quel determinato gruppo di studio sapeva veramente far squat perché in teoria quando uno sa fare squat non deve entrarmi sotto il parallelo chissà quanto rallentando o titubando e quant'altro uno che sa fare veramente squat aria giù tac si appoggia e va perché il movimento è rodato e questo secondo me è il punto che fa da spartiacque no 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 vai scusa mi era partito l'audio no allora partiamo dal fatto che secondo me il punto di vista di come sia fatto da dio uno squat per chi ha una visione powerlifting piuttosto che una persona normale è differente ti faccio io un'altra domanda ti rispondo non si fa però provo a farti una domanda per aprire la risposta il video che citava Ado che ho messo io sul quale abbiamo un po' discusso è un mio giocatore che faceva quel quarto di squat sei colpi con circa 160 kg e per essere due metri e cinque per essere un giocatore di pallaganestro 160 kg permettetemi non sono briciole per voi magari non è altissimo però è già un bel carico io ti assicuro che se gli chiedessi di farmi 120 130 me li fa secondo te ha più senso da un atleta che già ti riesce a fare fatto bene come lo vuoi tu un 120 130 kg cercare di portarlo ai 180 cercare di migliorare la forza massima in quell'ottica o sfruttare comunque in season quella forza per cercare dei lavori più di potenza specifici perché secondo me questo è il problema perché io sono concordi che gli studi sono limitanti sono il primo a dirlo io non ho fatto il PhD al momento perché secondo me si fanno troppe seghe mentali ci sono un sacco di limitazioni però ragazzi è facile ogni volta dire eh sì ma gli studi sono limitanti perché sti cazzi ci sono anche degli studi che sono ben fatti e vi dico che il discorso del eh angoli più specifici eh sono anni ormai che si fa così e sono anni che lo fa gente che fa questo di mestiere perché eh cito ad esempio Carlo Buzzichelli uno dei preparatori atletici più famosi direi quasi a livello internazionale sicuramente a livello italiano prepara atleti di Cuba eh della dell'atletica leggera eh vincono medaglie e questi atleti qua nel periodo diciamo vicino della gara specifico fanno comunque dei quarti di squat con carichi pesantissimi che voi che venite dal PL se li vedete quello del mio atleta è oro rispetto a quello perché sembrano passate il termine dei ditto squat del cazzo dove molleggiano 250 kg però cazzo questo vince medaglie e questi qua vi assicuro che se li mettete a fare uno squat fatto bene poi lo squat in tre settimane ve lo fa come volete voi quindi lì secondo me è un discorso un po' più ampio perché io sono d'accordo con quello che dici tu e probabilmente in quelli studi hai ragione tu cioè probabilmente è gente che se ci lavori bene sullo squat ti migliora cioè ti faccio l'esempio un atleta medio secondo me cioè io non faccio powerlifting ho dei carichi buoni se mi mettessi a fare delle ore di personal con te 12 settimane probabilmente il mio gesto di accosciata e il pattern dello squat migliora magari riesco a prendere anche qualche chilo ma in questo momento se sono un atleta già buono sui livelli di forza perché i miei livelli di forza comunque anche lì quanto è buono un livello di forza come lo andiamo a definire cosa definiamo 2 per body weight secondo me se un giocatore ha un back squat che sia già due volte il suo peso corporeo per non parlare magari di 2.5 che mi sembra già un po' più difficile abbiamo già dei livelli buoni di forza quindi dico ma se tu avessi uno che ti fa già 2 per body weight di back squat fatto bene continueresti a cercare di aumentare il back squat anche se quello non fa power lifter o ti accontenti se poi invece come dico prima parliamo di gente che effettivamente li metti 100 kg sopra ti barcola li fa di merda allora siamo tutti d'accordo però è lì la differenza secondo me vai vai Ale è che giustamente tu dici se io ho già un atleta che ha un certo tipo di attivazione un certo tipo di forza cioè ritornando alla domanda che hai fatto prima forse in questo caso che hai detto tu specifico in season è poco produttivo andare a buttare tutto nel cestino e cercare di ricostruire da capo qualcosa io la penso così perlomeno in un'altra cosa di cui ti scontevo con Ado ti posso dar ragione in quel senso lì però in una fase successiva quindi facciamo un piccolo fast forward no? andiamo qualche mese più in là magari in off season così considerando che comunque quel quarto di squat lì ha sicuramente meno attivazione cioè richiede sicuramente meno controllo motorio e sicuramente meno utilizzo dei fasci muscolari cioè se lui lo stesso chilo riuscisse a fare su angoli più complessi con la stessa dinamica e con delle tenute quelle che noi chiamiamo tenuta di pancia queste cose qua comunque che canonicizzano lo squat in un in un quadrato bello definito cioè di un movimento ripetibile che poi di per sé per quanto se diventa buono ed è un pattern corretto diventa ripetibile nel tempo ed è sempre quello quanto più avrebbe? è questo più che altro la domanda cioè no ma io allora su quello sono d'accordo ma in season non è il tuo caso specifico qui è proprio no ma io non so e rientrando anche nel discorso un pochino più in topic della live no? cioè se io faccio un quarto di squat a 200 kg qualche doppia ok? quanto mi cambia a parità di bodyweight la mia capacità neurale e le fibre muscolari che riesco ad attivare se quei 200 kg li faccio sotto il parallelo con una certa dinamica? ragazzi sti cazzi ma allora facciamo che tutto il mondo diventano tutti powerlifter cioè è impossibile farli in una seduta io questo che secondo me non in una seduta cioè anche in due prendi Busquets che nominava prima o non so di chi parlavamo prendi Cristiano Ronaldo ragazzi Cristiano Ronaldo magari i 150 kg ve li fa come volete voi e gli rompete il cazzo tutte le sedute no vieni qua facciamo mezz'ora oggi di squat 6x6 al 75% quando poi tutte le altre robe non le abbiamo allenate cioè cazzo abbiamo un'ora e mezza questo qua fa 8000 robe poi sul campo e noi le abbiamo fatto solo lo squat io amo lo squat però cazzo tutte le altre robe non le abbiamo fatte cioè movimenti in torsione roba monopodalica ci sono 10.000 robe tutto quello che è la componente di preparazione atletica cosa vuol dire? l'unione di due gesti che può essere partiamo magari semplice push pull legs unita a un altro movimento quindi può essere un lunge più una tirata un lunge più un push cioè la composizione di quello che poi è il gesto specifico perché prendo ad esempio pallacanestro viene un po' più semplice torna sempre su questo discorso adesso magari Addo si incazza un po' però è anche giusto allenare poi quello che vanno a far nello specifico nel senso se io devo allenare un giocatore di pallacanestro la componente iniziale principale è quella di decelerazione prima di riuscire ad accelerare un carico perché? perché è quella più difficile ed è quella dove rischio di avere più infortunio idem nel calcio quindi ok gli faccio lo squat mi va via mezz'ora di una delle tre sedute e tutte le altre cose quando cacchio gliele faccio cioè io la vedo così però il discorso è diverso cioè un conto è io insegno a una persona in una seduta a far squat e quello è un discorso cioè un conto è io porto quella persona per formare di più nel corso del tempo perché come è già stato detto all'inizio cioè in questo caso qua non è da intendere che metto il ragazzo o la ragazza o chi per esso che gli faccio fare solo squat con una programmazione PL perché tipo ad esempio tu hai già detto giustamente faccio fare un 6x6 e poi dopo non faccio più nulla hai ragione è corretto di fatti non è quello l'approccio che personalmente tenderei ad avere con una persona del genere perché è troppo volume ed è troppo oriented a quello che farei io nel powerlifting però cercherei con un approccio più ponderato cioè quindi con meno volume magari giocando di più sulle intensità relative nel corso del tempo quindi questo è un discorso meno carico meno carico su bilanciere anche perché sostanzialmente 6x6 è 75 è un discorso che cioè va fatto su una questione di programmazione almeno per come lo intendo io che non si parla di un macro ciclo di allenamento cioè penso che se parliamo di preparazione atletica io non programmerei se dovessi programmare a tavolino sul giro di 12 settimane come faccio nel powerlifting ovviamente i tempi sono più dilatati quindi mi immagino che anche l'obiettivo di programmazione sia più dilatato cioè mi porterei che se ad esempio questo ragazzo qua lo allenerò per due anni un sprinter un saltatore che è una competizione all'anno sì se parliamo di un giocatore di calcio no un giocatore di pallacanestro no se c'è di sì sì no ma io intendo su quella costruzione di quella componente aspecifica ho capito costruzione di una costruzione di una componente aspecifica nel corso del tempo eh ma è difficile riuscire a programmarla anche meno di quelle 12 settimane cioè tu gli programmi un lavoro di squat su 10 settimane facciamo finta o quante sei fai Stefano tu con i ragazzi che nominavi prima perché si parliamo di cose pratiche 12 settimane esatto 12 ed è quella famosa cioè l'off season classico ok in off season non ho nulla da ridire in season come cacchio facciamo se abbiamo due partite questo c'ha un problema o che cazzo ne so in off season ho costruito un movimento solido sì ho costruito una condizione in tre mesi cazzo la costruisci la condizione quando poi ho iniziato il lavoro con la squadra tutto il lavoro di conditioning sul campo è stato fatto cosa io mi aspetto di fare durante l'in season mi aspetto di sfruttare quello che ho fatto in off season quindi la condizione che ho costruito e il controllo motorio che ho costruito l'abitudine all'atleta di fare squat come si deve fare stacco attivando i muscoli che deve attivare di sfruttarlo per controllare il suo stato di forma perché 6x6 a 75 in season è una cosa che non ha non ha senso delle doppie magari all'80 o delle triple anche al 65 dopo una partita siamo sicuri che fanno solo male e invece per uno che ha il controllo del movimento non lo aiutino addirittura a recuperare uno che prende una ginocchiata uno che prende una ginocchiata nel quadricipite se fa delle triple al 65% di squat chissà che magari la sente pure meno il giorno dopo è questo però devo buttare la base prima nell'off season negli anni più ne costruisco più questa cosa diventa efficace il vero problema è riuscire a costruirla e su questo credo che siamo d'accordo tutti e tre ok ma ok scusa che così almeno su questo siamo d'accordo nessuno discute se non è la possibilità di lavorarci off season perché ragazzi il discorso che fa ADO è quello perché a voi ce l'avete cioè a voi prendete ad esempio i preparatori di serie A e dite cazzo ma in serie A non fanno così ok ma in serie A parliamo di gente che fino a due settimane prima il mercato è aperto il mercato ce l'hai aperto pure durante la stagione cioè vuol dire che non lo so vi faccio l'esempio Olimpia Milano ho lavorato all'Olimpia Milano allora Olimpia Milano il preparatore atletico ha praticamente i giocatori a disposizione dalle prime amichevoli pochissimo tempo prima riesce a sapere chi ha a disposizione cosa vuol dire che l'off season non esiste e se esiste ti arriva gente che si è fatta magari in America quindi è finito il campionato in maniera diversa questi devono recuperare nel calcio idem ti arriva magari gente che non lo so in quel periodo comunque va a sistemare mille robe si tende in realtà a lavorare un filo meno perché anche lì voi conoscete voi personalmente degli atleti di altissimo livello che in off season si fanno il culo epico sono pochissimi ve lo dico io perché o prendi Lebron James gente così che ci spende i soldi perché ci tiene ma gli altri di base fanno quello tutto l'anno quelle due settimane che hanno libere di base si distruggono guardate adesso ad esempio c'è James Harden come si è presentato alle prime amichevoli in NBA non so se sapete chi sia quindi arriva gente che comunque si è fatta le sue sante due settimane di vacanza e tu ce li hai due settimane questi quindi l'off season non ce l'hai ti ritrovi come ti dicevo prima con 15 giocatori dopo due settimane che già devi portarli a una condizione buona in campionato in Eurolega e in Coppa Italia che ce l'hai all'inizio quindi vuol dire che comunque hai almeno due partite a settimana e c'hai 15 giocatori da gestire nella sala pesi ora tutti arrivano tutti che sono già americani sanno già far quel lavoro e di base così perché più vai a alto livello come dicevamo prima più trovi gente che sa far quella roba oppure comunque diventa difficile perché se non ho avuto l'off season per lavorarci che è come di base succede quasi a tutti comunque l'off season è difficile avere un off season lunga a meno che sei lì da un anno e quindi ti ritrovi il giocatore che è rimasto lì fermo nel senso che non ha cambiato squadra però di base ad alto livello il mercato è sempre aperto ed è ampio parte poi la stagione due partite un giocatore non gioca gioca male già si parla di tagliarlo cioè ci sono tante dinamiche per come la serie A l'alto livello non lo so adesso Ado si parlava del campionato spagnolo e diventa difficile poi sono comunque dinamiche strette in questo senso sicuramente ad oggi ad oggi cioè perlomeno per come adesso ad oggi sono strette idealmente almeno penso che come l'intenda stedimi se mi sbaglio idealmente fast forward di 5 anni in un mondo diverso magari abbiamo un'ottica un po' più diversa quelle due settimane lì effettivamente non è che ti distruggono così tanto se non spanchio se non ti alleni per due settimane fin tanto che hai costruito nel corso del tempo ma su quello infatti era il presupposto di prima però è un presupposto che noi poniamo idealmente che speriamo un giorno si arriverà però vi dico ad oggi ti ritrovi senza un off season vera ti ritrovi a dover lavorare con 15 atleti che il giorno la settimana dopo ci hanno già la partita cazzo cosa fai devo lavorare su 15 componenti diverse impiego il 100% del mio tempo su quei solo tre gesti e lascio stare le altre non lo so vi parlo di pallacanesso parlo non lo so olimpia milano senza dire quello che faccio io cosa fai fai quelle due sedute che hai di pesi perché ce n'hai solo due se ti va bene perché come dicevo prima considerato una settimana tipo se questi fanno una partita al mercoledì o giovedì una partita la domenica un giorno libero nella settimana per recuperare glielo devi dare quindi fai domenica partita lunedì libero martedì doppio gli metti un pesi al mattino mercoledì fare un allenamento lungo giovedì di nuovo la partita venerdì devi far scarico sabato domenica devi far video sabato per preparare la partita di domenica quando cazzo di fai fare pesi cioè diventa difficile una due pesi ok quelle due di pesi ci concentriamo su quello e cosa fai prevenzione caviglia non gli fai niente lavoro su tavolette schimio che ci siamo contenti dello squat lavori in torsione non lo so gli altri componenti della forza facciamo tutto facendo lo squat come lo facciamo questo squat perché anche lì era il discorso che facevo l'altra volta discorso di forza reattiva forza esplosiva forza di manuto massima ce ne sbattiamo cioè nel senso le altre velocità non le alleniamo non facciamo niente di un po' più specifico core specifico non facciamo niente magari il ragazzo non lo so ha avuto problemi alla spalla non gli fai dei lavori di prevenzione di spalla sono tante cose io dico cioè in un'ottica ottimale sono d'accordo anch'io però più parliamo di ottica ottimale come la intendete voi più ci spostiamo su una che paradossalmente fa powerlifting cioè deve avere tanto tempo a disposizione mentre invece comunque parli di persone che fanno un'altra roba di lavoro secondo me con il movimento corretto mezz'ora di squat magari anche abbinata a dei lavori di stabilizzazione a parte può già fare una differenza incredibile quello che descrivi tu però mi sembra quasi che potenzialmente la preparazione atletica allora viene viene sfruttata il 10% del suo potenziale perché se la situazione è che fanno poco poco tempo e quindi bisogna un attimo eh ad alto livello è così cioè si dà priorità ad altre cose quello è ovvio il lavoro del preparatore fa da collante a me spiace cioè per come la vedo io il preparatore è bravo eh prima di tutto a livello umano sapere interrelazionarsi capire c'è tanto lavoro che magari adesso eh voi tralasciate ma cioè su io ho collaborato con Milano e Inter ho lavorato a Interpro che è un'azienda che si occupa di training load e dati GPS eh cioè vi faccio l'esempio eh domenica abbiamo la partita ok ci sono i GPS arriva che i nostri giocatori non lo so eh ditemene uno i Cardi all'Inter quando io lavoravo fa X chilometri di solito abituato a fare quel altro X chilometraggio ed è il titolare il panchinaro non fa un cazzo di chilometraggio quindi deve far lavoro fa più lavoro metabolico non fa lavoro metabolico quell'altro fa lavoro meccanico quindi già sei in due tre preparatori e già devi avere venti lavori differenziati e già sti cazzi perché ve lo dico eh in ottica ottimale io vi ritrovo qua adesso a farla diretta alle undici con voi ho finito di lavorare alle nove e trenta alle nove eh ci tengo al mio lavoro cerco di fare le cose fatte bene però vi assicuro che poi cazzo nella pratica non è neanche facile perché devi fare otto milioni di cose diventa difficile quindi ok lavoro metabolico ha quello lì quell'altro deve fare lavoro di recupero abbiamo la sessione di forza la sessione di forza cosa fai come dicevamo prima se devi lavorare a gruppi è diverso anche perché cosa fai fare fai una programmazione di squat tutti simile o hanno tutti la loro scheda differenziata ok siamo bravi hanno tutti la scheda differenziata hanno la scheda differenziata però eh ho i dati del dei gps che mi consigliano di stare più basso di carico perché in quella partita i carri ha fatto ottomila chilometri quindi dovrebbe scaricare perché deve scaricare voglio fargli farlo squat voglio fargli lo squat ma giovedì c'è un'altra partita giovedì c'è un'altra partita e questo in realtà mi risulta che è già affaticato mi è già affaticato l'allenatore ti dice guarda che questo giocatore è affaticato secondo me devi solo fargli un po' di scarico quindi di foam roll terapia piscina e tu che cazzo gli dici no facciamo ancora squat eh cioè sono tante cose so che adesso sembro un po' stro posso posso dire una roba finalmente sento purtroppo non avevo campo no secondo me c'è un po' una una confusione cioè sono due cose intellettualmente interessanti dire premesso che sono abbastanza ho perso un po' di pezzi perché non prendeva la linea ma sono molto d'accordo col contorno organizzativo cioè io ho dei tizi che mi vengono e devo fare quello che posso e quello siamo tutti d'accordo sul fatto tizio fa questo caio fa quest'altro vince ragazzi Bergomi diceva che negli anni 80 cioè non 2000 anni fa anni 80 la scienza era già molto avanti negli anni 80 erano andati sulla luna da 20 anni negli anni 80 non li facevano bere in ritiro d'estate pochissima acqua e perché si faceva così e dicevano così io essendo purtroppo molto più vecchio di voi molte delle persone che ho visto in quest'ambiente le ho viste sposare all'epoca quando ero ragazzino delle cause che sono state totalmente fallimentari cioè l'allineamento infrequente per l'ipertrofia fare teorie sull'alimentazione io non me ne intendo l'alimentazione però sposare delle cose per cui questo in mondo non ci dobbiamo stupire se anche cioè non è tutto oro colato quello che cioè molte volte è facile vedere degli errori di valutazione grandi come una casa che magari in altri settori non ci sono cioè sono abituato a vivere per mia fortuna in due ambienti molto diversi gli errori di valutazione che vedo nel mondo chiamiamolo fitness perché purtroppo anche la preparazione atletica ci finisce in mezzo in molti ambiti le errori di valutazioni macroscopici che vedo fare nel nostro ambiente non li vedo fare altrove e le errori macroscopici di giudizio nelle analisi nelle ricerche scientifiche non le vedo fare altrove detto detto questo per cui non è se come è un discorso di dire dobbiamo far diventare dei powerlifter gli atleti piuttosto che ma assolutamente no anche perché dire il doppio del peso corporeo che si deve dire prima ma non vuol dire un cazzo dipende come lo fai e lo squat ammesso che squat sia e per me non è neanche necessario fare squat dico che dico che andrebbe vista la prova del nove cioè nel senso ho la certezza che nel mondo non ci sia mai stata un'interpretazione dei pesi di un certo tipo se non nella pesistica olimpica che ti impone un certo controllo tecnico per cui vorrei rivedere tutto alla luce di gente che riesce a riconoscere un alzato ecco a luce di questo ci sarebbero delle cose che verrebbero mitigate cambiate piccole cose in più ma io su questo sono d'accordo o atleti come tu mi dici Ronaldo ma io ti dico Busquets no Ado io sono d'accordo altrimenti non avrei fatto il percorso di studi che ho fatto nel senso lo sai io sono venuto da voi io lavoro in quella locca non sto discutendo con te assolutamente dico in generale cioè il fatto che Tizio abbia fatto e Caio abbia fatto cioè sai quando ho iniziato a far pesi dicevano delle robe che adesso voi vi mettereste a ridere e lo dicevano i santoni dell'epoca e lo dicevano i guru lo dicevano i maestri i professori universitari infatti ti dico io io su questo sono d'accordissimo e ora risulterò magari presuntuoso però io ti assicuro io sono convinto che se ho avuto dei risultati buoni con alcune con alcuni giocatori è proprio averli stravolto questa cosa il fatto di dire cacchio ero abituato a fare cagate sulle bosu adesso sa muoversi correttamente infatti Francesco sei qua ti ripeto non è una partita nei tuoi confronti peccato che poi quella cosa che ti ho detto non l'ho portata avanti perché sono impegnatissimo in questo periodo però ci sono delle cose che l'occhio che è un occhio che ha un peso come dicevo prima mia madre se mi vede accendere il forno a 100 gradi mi dice vai a cagare l'ho letto no sei un coglione perché ha cotto 10 milioni di torte in vita sua il mio occhio mi dice che ci sono delle cose che hanno poco che si potrebbe fare dell'altro cioè veramente vai a fare una camminata di salita che hai fatto di più al di là su quale ragione però il contesto il contesto incide tanto perché ma sì ma certo ma noi parliamo di condizioni ideali però qua capito cioè lo capisco nel senso che stiamo facendo una chiacchierata come se fossimo al bar a dire certo giocheresti 4-3-3 o 4-4-2 io 4-3-3 col pivote e i due interni davanti poi se non riesco e devo fare il doppio pivote e farò il doppio pivote cioè è un po' una chiacchierata di questo tipo parlo veloce perché siamo moltissimo fuori tempo e volevo un po' scusate l'ucis stroboscopico è malalbero di Natale e volevo un pochino stringere i tempi secondo me è una chiacchierata molto interessante molto intrigante anche perché ci sono punti di vista eterogenei sono convinto che ci sia un sacco di roba da fare nelle proporzioni atletiche quando dicevi prima fare torsione certo c'è tanta roba da fare è che non va visto l'alzata come sto facendo powerlifting o devo aumentare il massimale perché è un tizio che fa il doppio del peso corporeo di squat voglio dire come lo fa perché se no punta capo cioè se no stiamo accendendo il forno a 90 gradi neanche a 190 cioè è anche lì dopo si va dalla padella alla braccia prima parlavate di Lebron Joshua Joshua ha fatto bodybuilding o crossfit non so cosa ha fatto era tirato come una corda di violino ha perso adesso è un fisico più normale cioè perché dipende poi come si declina tutto questo discorso qua tutte le cose della vita hanno un'idea e una moderazione delle variazioni di questa idea per cui è tutto estremamente complicato è estremamente più tutto ha dei sé dei ma dei però qualunque cosa qualunque qualunque cosa è chiaro che oggi pensare secondo me contestualizzando qualunque cosa parte così per dare degli stimoli particolari pensare ancora di vedere il mezzo squat secondo me il quarto di squat secondo me puoi dire scendo il parallelo sotto lì vicino quello mi sta bene anche se secondo me non scendendo sotto un certo livello si annescano dei meccanismi muscolari di frenata e questo è un mio occhio che un preparatore atletico non può avere perché ho visto due milioni di squat che lui non ha vinto detto ciò potrebbe essere anche abbastanza ininfluente cioè se uno fa una sedutina dove mette tre serdi mezzo squat va bene cioè non viene giù la sagrada famiglia però però ci sono dei contesti secondo me in cui si può fare un saltino un saltino in avanti e coniugarlo con tutto quello che sono le nostre esperienze ecco tutto qua eravamo tutti d'accordo sicuramente no è tutto qua ragazzi io scusate se vi vi ho vi ho vi ho tagliato le gambe però siamo lunghi 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 dopo non riusciamo più a se volete fare una chiosa finale una una frase una chiusura a testa o avete qualcosa da dire poi salutiamo i nostri affezionati no beh secondo me sarebbe interessante poi magari anche in futuro provare a riflettere su concretamente come può essere possibile rivoluzionare un attimo quella cosa qua perché sai qual è il problema Stefano sai qual è il vero problema è che io penso che Francesco è un ragazzo che è giovane sta facendo successo si muove bene fa una fatica della madonna per trovare spazio no perché perché c'è poco spazio e pochi soldi anche in questo ambiente perché purtroppo c'è anche quello cioè ci sono dei personal trainer che conosco che per diventare preparatori atletici ammesso che fossero capaci dovrebbero ridursi ridursi il loro la loro posizione economica c'è anche quel problema qua io l'ho fatto io l'ho fatto ma immagino e magari avrai dei clienti da personal trainer perché per ruotare esatto capisci che e queste cose succedono anche ad altissimo livello perché purtroppo se non altissimo alto quello è un bel problema no quello è un bel problema perché dopo se tu sei alla merce di non avere libertà di non avere libertà di movimento dopo diventa anche difficile poterti muovere come vuoi quello è un bel problema sbaglio no no sono d'accordissimo anch'io c'è poco da aggiungere in realtà io sono d'accordissimo Ado ti dico purtroppo nella realtà dei fatti ci sono tanti sé che quando ti ritrovi dentro cazzo ne abbatti uno dopo l'altro ma non è facile non è facile quindi non dico che poi trovi la scusante però cerchi un po' di andare avanti ecco perché vi assicuro che è così e io già sono come dicevo prima a Mosca Bianca rispetto a molti altri ma anche perché poi torniamo anche sul punto sul discorso del dire avere un tecnico qualificato perché effettivamente comunque avere gente in grado di avere quell'occhio comunque saper far allenare in una determinata maniera dei ragazzi conoscendo anche magari quello che può essere il bagaglio extra quello che è il discorso della forza certo e le altre cose certo diventa difficile perché come dicevamo prima se comunque devo farli cinque minuti mobilità caviglia cinque minuti riscaldo lo squat cinque minuti componente specifica metabolica cinque minuti di quello cacchio devi essere bravo non è tutto dentro tutto insieme cacchio in tre mesi fai fatica poi sono d'accordo in ottica ottimale parti da un settore giovanile è un altro discorso come dite voi sarebbe giusto cercare di iniziare a sdoganare sicuramente questi preconcetti e poi far chiarezza su quello che magari sono le metodologie poi sul discorso dell'angolo in più e dell'angolo in meno secondo me è una cavolata nel senso non che sia una cavolata però è un'argomentazione comunale ma io guarda dicevo prima che ci connettessimo che tante volte vedo dei calciatori che se facessero dico una roba che ha vergogno insomma un po' di crossfit fatto male si andrebbe meglio di quello che fanno andrebbe meglio di quello che stanno facendo perché almeno ti condiziona esatto ti condiziona ti abitui a spingere da stanco cioè quella virulenza che c'è che vorrei vedere nel calcio di gente che va addosso sulle seconde palle vaganti e quello ti potrebbe aiutare in un certo senso purtroppo c'è questa fobia fobia totale del sovraccarico che su certi atleti non è un problema su altri quelli che non ce l'hanno di natura è un bel caduto io faccio l'ultimo solo per farvi capire e poi sto zitto Ado vi faccio un esempio io quando ho lavorato anche più basso livello in serie B su una rosa completa ho diciamo cambiato completamente un giocatore facendo esercizi diciamo classici bene un lavoro bello di forza in progressività ha migliorato tantissimo ha iniziato a schiacciare eccetera ha avuto una chiamata in serie A allo stesso tempo nello stesso anno lavorando con i pesi e questi non erano abituati a farsi due o tre sessioni di pesi a settimana quando abbiamo iniziato ad avere qualche problemino di qualcuno che aveva come è normale perché tra parentesi un giocatore che si allena sei su sette fa le partite è normale che venga qualcosa appena è iniziato ad avere qualcuno che aveva la cagata all'adduttore quello quell'altro arriva il messaggio nella chat con tutti dello staff ma forse in palestra fanno qualcosa che non sia adeguato dei giocatori di palatane adesso cazzo vi assicuro che poi se hai ritrovato un messaggio così da magari l'allenatore che comanda lui che cazzo fate io mi sono ritrovato un anno più o meno così e per conto poi leggi open e ti trovi Agassi che vent'anni fa o venticinque per uscire da una buca di condizione gli hanno fatto fare becero bodybuilding puro che ha funzionato però le forzate di pan infatti secondo me il contesto è la differenza ci sono realtà io vi nomino Cantù pallacanestro è stata in serie A livelli super c'era preparatore Sam Bianchi che collaborava con anche la Università Statale di Milano con cui sono amico di Sam e cazzo lui è un flippato su pesi faceva triple pesanti giocatori con c'era Artest ai tempi mi ricordo sport pesanti e roba che in Italia era proprio completamente fuori da ogni logica come magari può essere già un pochino anche all'Olimpia Giustino Danesi e questi comunque hanno avuto successo ma perché? perché lì non avevano la pressione dell'allenatore non avevano gente che li rompeva i coglioni hanno lavorato bene e vi assicuro che quegli anni se andate a vedere Cantù faceva robe super e questo preparatore Sam secondo me è uno dei migliori preparatori che ci sia mai stato però aveva il potere di far quello se poi vi ritrovate come sono io magari che mi ritrovo lì a 23 anni in Serie B appena c'è un risentimento ti rompono i coglioni come fai? non è facile sì sì no ma questo è dato per scontato Erba che programmi abbiamo prossimamente? prossimamente intendi nelle prossime dirette suppongo sì non sei preparato? non sono preparato no in realtà dovremmo farne una una bella golosa fra un paio di settimane però non ha senso dirlo adesso ok ascolta no vabbè dai comunque qualcosa ci sarà di interessante anche la settimana prossima la sì ma mentre ero fuori mi avete scritto in tanti per 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 l'info prodotto se ci avete se ci sono altre domande adesso vi ho un po' risposto però se ci sono anche in privato scrivete sulla pagina Accademia la mail comunque grazie dell'interesse e che sta fa sempre molto piacere anche quello è è un prodottino premesso che noi non vogliamo non dobbiamo vendere un cazzo cioè secondo me è una roba fatta bene abbiamo fatto e ve la proponiamo non dobbiamo vendere un cazzo di niente però anche quello è un prodottino che ha una logica sequenziale che in questi contesti si sposa molto bene cioè come mi approccia un'alzata cioè a me non dispiace la roba che fa Dan John poche serie pochi esercizi pesanti fondamentali anche nella preparazione dei lanci o del football americano però quello che manca a Dan John è ok faccio lo stacco lo faccio programmato anche giusto poca roba stimolante ok ma come ecco come mi approccio quella roba li manca e secondo me è una mezza risposta anche questa ragazzi salutiamo cosa dite sì penso che possiamo anche chiuderla io vi ringrazio molto della presenza tutti quanti ho visto che addirittura sono salite le visualizzazioni nel tempo in un momento in cui di solito calano per cui vuol dire che la discussione era accesa è sempre molto è un nodo sempre molto scoperto questo nell'ambito dell'allenamento per cui a qualcuno dà fastidio ma sarà così indubbiamente il confronto è la roba migliore ma sì perché non si deve vedere come dicevi tu prima Stefano questi del powerlifting a me personalmente non me ne frega niente penso che io penso veramente da adulto che ho visto tante robe in questi anni penso che in questa cosa manca un pezzo come pensavo vent'anni fa che nell'allenamento la frequenza la qualità del gesto fosse un pezzo mancante oggi lo danno per sconto tutti ecco la stessa cosa penso che lì manchi un pezzo che sia piccolo o grande non lo so ma manca un pezzo e io chiudo la mia parte cioè da quel discorso qua aggiungo che secondo me è molto più semplice di quello che si pensa bravo sono d'accordo sono d'accordo assolutamente sono d'accordo sono d'accordo che non vada troppo spezzettata in forza specifica forza veloce che ci sia il corpo di un tutt'uno per cui mettere in moto questo meccanismo è molto più semplice di quello che non sembra sono d'accordo ci salutiamo con questa ragazzi salutiamo il pubblico grazie a tutti per lo share grazie a tutti ragazzi ciao a tutti grazie buona giornata